Sulla Pineta di Roio il Comune ha intenzionato a stringere tempi e a stringere un accordo con gli usi civici per poter riqualificare l'area della Pineta, per la quale, come è noto, si sono mobilitati anche tanti privati cittadini con in testa il dottor Walter Marola. La questione della Pineta, uno dei polmoni verdi più grandi della città, è complessa, poiché una sentenza del passato stabilì una sorta di promiscuità tra gli usi civici di Roio e il Comune. In termini giuridici, per risolvere il tutto ci vorrebbe tempo, così l'assessore comunale all'ambiente Emanuele Imprudente vuole fare l'accordo con l'amministrazione dei beni separati. Di recente c'è stato un incontro e l'ASBUC ha rimesso un'ipotesi di accordo transattivo per cercare di stabilire come gestire la vicenda in attesa poi della definizione definitiva. Ora l'Avvocatura sta studiando le carte. Secondo l'ipotesi, le entrate, ad esempio i canoni per le antenne, andrebbero all'ASBUC. L'ASBUC rinvestirebbe soldi per progetti per il territorio in accordo col Comune. In questo modo si potrebbe far ripartire la Pineta come zona attrattiva. Per l'area in realtà esiste già un progetto di rilancio dell'ASBUC. Se questo accordo finalmente prenderà corpo, di comune accordo con il Comune dell'Aquila potrebbe partire una bonifica consistente. La zona però è sotto stretto controllo anche per quel che riguarda le antenne. Dopo le polemiche di alcuni cittadini per il cartello che consiglia di non sostare per più di quattro ore, l'Università sta monitorando e c'è stato anche un incontro tra il Comune e l'ASBUC e i titolari delle antenne. Come si ricorderà c'è il vecchio progetto di finanziamento per fare un traliccio unico. Il Comune però non può imporre ai proprietari di tralicci di spostarsi. A quanto pare nessuno sembrerebbe intenzionato a farlo. Le antenne risalgono agli anni Ottanta. Anche l'associazione Viviamo la Cua prodotto di recente uno studio molto interessante che si serve dei rilevi dell'arta riferibili agli anni 2017-2018. Grazie ad alcune indagini, si legge nello studio, a proposito del cartello, si è evidenziato il rispetto del limite di normativa per la sosta inferiore a quattro ore. Dalle ricerche emerge che soltanto alcuni tralicci avevano livelli di inquinamento elettromagnetico più alto prossimi comunque ai limiti di legge. Laddove fu riscontrato un superamento, fu l'arta a imporre di rientrare nei limiti. E questo è stato fatto. La problematica va avanti da tempo. Nonostante alcune sentenze di dismissione, nulla è cambiato. La situazione è diversa, sempre secondo lo studio, per la Facoltà di Ingegneria. Il dislivello e la presenza di alberi rendono il luogo più schermato dalla potenza del segnale, quindi l'area più sicura. Certo è che, ferma intenzione dell'assessore imprudente, riqualificare la zona, come si farà per San Giuliano e come si è fatto per il Parco del Sole.